Come avete sentito la storia di Copertina oggi è dedicata alla storia di Chiara. La data del 14 settembre 2018 ha cambiato la vita di tante persone ma soprattutto di una. Raccontiamo appunto la storia della giovanissima Chiara Corcella, una caduta e un incidente, una tragedia che cambia la vita. La storia di Chiara è davvero forte e barlettana, una studentessa modello di 20 anni iscritta al terzo anno del corso di ingegneria gestionale della Università di Bari. A settembre è partita appunto per l'Erasmus e ha raggiunto Manresa, un centro universitario a pochi chilometri da Barcellona. Un cornicione si sgretola, Chiara cade nel vuoto, la soccorrono gli amici ma il suo battito cardiaco è già rallentato. Così la ragazza viene trasportata all'ospedale universitario di Terrazza per subire un intervento che durerà oltre cinque ore. Dopo 20 giorni di coma Chiara ha aperto gli occhi, ha cominciato a respirare autonomamente ma a causa delle gravi conseguenze riportate Chiara oggi è ricoverata in una struttura di cura a Bologna, ha bisogno di ulteriori cure e soprattutto di lunghi ricoveri fuori regione. Per lei è partita una gara di solidarietà. Tanti testimonial che stanno spendendo se stesse il proprio nome e si stanno impegnando per raccogliere fondi a favore appunto di Chiara. Iniziative come la partita di solidarietà che si è svolta la settimana scorsa appunto a Barletta. Raccontarci questa storia Carmela Corcella, zia di Chiara. Ben trovata. Grazie. La data del 14 settembre è stata davvero una data che ha cambiato la vita di tutti voi, non solo quella di Chiara. Certo, perché non voglio neanche ricordare quella mattina del venerdì il 14 settembre e il sabato molto molto presto mio fratello mandò un messaggio e mio marito che è quello il primo che si alza in famiglia lo aveva preso, sicché mentre mi preparava la colazione mi ha detto ti devo dare una notizia non molto bella. E io dissi che notizia mi devi dare? Dice riguarda la tua famiglia e poi mi lesse il messaggio. Quindi abbiamo appreso questo. E mio fratello e mia cognata sono immediatamente partiti per la Spagna e così è cominciato. All'inizio solo con telefonate comunicavamo con loro, quindi il fatto di essere lontani era forse ancora, era bruttissimo perché non sapevamo e quindi ci sapere, poi finché non ci hanno dato le notizie, finché Chiara è stata in coma farmacologico, diciamo questa attesa era terribile. Però eravamo speranzosi e quindi pregavamo molto e attendevamo il suo risveglio tutti quanti. Poi questo risveglio diciamo ci ha fatto capire che non era proprio così, quindi c'era ancora da attendere molto. In questo momento Chiara si trova, dicevamo, a Bologna. A Dimola in questo momento, in un centro di riabilitazione a Dimola. Adesso Chiara respira autonomamente, fa dei piccoli progressi perché diciamo risponde a qualche comando della mamma con la chiusura delle palpebre. Si attende questo viaggio ad Innsbruck, vero? Ecco, solo in attesa appunto perché ci sono dei percorsi ancora da fare, dei percorsi soprattutto medici. Il cammino è lungo ancora. Il cammino è lungo. Ecco, si attende appunto questo passaggio ad Innsbruck dove l'attende un percorso ulteriore di riabilitazione, la cui durata non è nota, dicevamo, e proprio per questo c'è bisogno un po' di aiuto per la famiglia. E prima di parlare di questo, Carmela, io le chiedo invece di raccontarci Chiara perché dobbiamo ricordare com'è questa ragazza, chi era, chi è, che cosa ha fatto fino purtroppo a quella data, perché Chiara è una ragazza piena di vita e lo sta dimostrando. Per me Chiara è una forza della natura proprio perché posso ricordarla proprio dai primi giorni di vita. Io dico che Chiara è nata nella mia storia d'amore perché ero fidanzata con mio marito, quindi quando è nata lei è stata proprio gioia piena e la chiamo la mia stellina, Chiara. Chiara ha portato anche gli anelli quando mi sono sposata, due anni aveva ed era già in grado di parlare perfettamente, camminare perfettamente e tutto il resto. E questa bambina ci ha riempito la vita in tutto e per tutto perché era molto sveglia, molto precoce in tutto. Io la chiamo argento vivo e ci ha dato tante soddisfazioni con la scuola, con lo sport e poi chiaramente… Impegnata, diceva, anche in atletica, no? Anche in atletica, ha dato, diciamo, dei bei risultati, sì, con la marcia precisamente. Poi lei quando era piccola piccola stava spesso con me. Io ho avuto, diciamo, un figlio dopo cinque anni e mi ricordo che lei diceva, io le chiedevo sempre, Chiara fai le preghiere per me. E lei la sera diceva, zia io prego sempre, ma mi sono così stancata perché… Quando finalmente le ho detto che la zia era in attesa, lei era molto piccola, 6-7 anni, e lei mi fa, zia adesso credo, adesso posso dire davvero di credere in Dio. Cioè una bambina aveva proprio piccina. Quindi molto sveglia. Molto, molto sveglia, molto sveglia e lei è stata, diciamo, seguita, educata cristianamente, poi si è leggermente allontanata come tutti i giovani e poi c'è stato il suo ritorno. Le ho detto che facciamo parte di questo gruppo cattolico, quindi lei, il mio ultimo ricordo di mia nipote Chiara, è a un'ultima vacanza trascorsa insieme, una vacanza con questo gruppo cattolico, quindi si è proprio ritrovata, ha ritrovato, insomma pregava con noi, è stato bellissimo, stava con noi, giocava con noi, passeggiate in montagna, bellissima vacanza, e quindi ho questo ricordo meraviglioso. E poi è partita per l'Erasmus, quindi era carica di progetti, di vita, vita da vivere intensamente. Poco alla laurea, mancava poco alla laurea. Lei voleva comunque studiare bene la lingua, quindi andare all'estero come già so. L'esperienza come tanti giovani voleva fare appunto all'estero. Certo, quindi era gioiosissima di questa esperienza e carica. Ed era lì da poco, vero? Ed era lì da pochissimo, aveva frequentato proprio poche lezioni. Questo incidente ha determinato una pausa forzata nel suo percorso. E Carmela, bisogna però raccontare, per chi crede, per chi ha una visione della vita diversa, nelle esperienze tragiche, nelle esperienze difficili che mettono a dura prova la nostra, a volte anche la nostra fede, se vogliamo dirla fino in fondo, si determinano però degli eventi positivi. Ed è successo anche questo nell'esperienza tragica appunto di Chiara. Intanto intorno a lei una famiglia numerosissima che si racconta e ovviamente non la fa sentire sola per quanto le difficoltà legate agli spostamenti, alla lontananza, determinano necessariamente una separazione. Però c'è una famiglia intorno a lei che le fa sentire la sua presenza, la sua vicinanza. Lei diceva, Carmela, è in uno stato di semicoscienza. In questo momento hanno detto, i medici hanno detto questo, no? Il bello, il buono che è venuto intorno alla storia di Chiara. Ne vogliamo parlare? Sì, c'è innanzitutto tanta preghiera. E questa è l'accusa fondamentale. Perché se non altro la preghiera, almeno a me personalmente, mi dà la serenità per affrontare questo dolore grande. Quindi tanta preghiera, tanto affetto, tanta vicinanza di... Proprio anche tanta gente che dice, noi stiamo pregando per Chiara. E questo è bello. E poi stanno venendo tante anche manifestazioni di... È stato realizzato per esempio uno spettacolo interamente per Chiara a Natale. Da un signore che mi aveva chiamato, aveva detto che era un regista e scriveva. E ogni anno lui realizzava uno spettacolo. E l'aveva voluto dedicare interamente a Chiara quest'anno. Molto, molto bello, con poesie. E poi disegni per Chiara. E poi partite di calcio. E anche, io incontro anche gli amici, per esempio, degli elementari di mio fratello Giacomo. Che mi dicono, o amiche di mia cognata che stanno, si stanno prodigando. Ognuno, ognuno. Esercenti che hanno... Anche il mondo della scuola, diceva, no? Anche il mondo della scuola, gli insegnanti. E tutto questo, cioè in questa vicenda dolorosa, in questo noi vediamo proprio l'abbraccio di Dio. E io dico anche, questo lo credo veramente, che l'amore può curare. L'amore può curare. Quindi può... L'amore della nostra famiglia sicuramente guarirà Chiara. Principalmente con la preghiera. La speranza deve essere quella che non ci deve mollare mai. Abbandonare mai. Non ci deve abbandonare mai. Dicevamo, tanta solidarietà, anche concreta, no? Partita questa campagna di raccolta, di fondi a favore appunto di questo progetto ad Innsbruck per Chiara, perché possa davvero riprendersi e tornare quella che era. E tanti nomi, dicevamo, che si stanno spendendo da cantanti famosi. Come è arrivato a loro questo messaggio? Sapete come è stata intercettata la storia di Chiara? Ma Chiara ormai, diciamo, è sui social, perché è stata, diciamo, dal primo momento, penso a Barletta, tutti lo sanno. Magari della cantante credo sia stata un'amica che, perché a Chiara comunque piaceva, quindi le ha fatto questa, penso. Parliamo di Emma Marrone. Di Emma Marrone. Non lo so, anche per noi è un mistero, perché ovunque ci abbracciano e ci dicono siamo con voi, preghiamo per voi. E questo è molto bello. Al di là del gesto concreto, del contributo ad una campagna di solidarietà, è bello sentire l'abbraccio della persona che ci sta accanto e che condivide, se possibile, condivide parte di questo dolore, di questa sofferenza che state attraversando anche voi. Io però vorrei, per chi vuole, per chi magari volesse dare una mano, intanto adesso in sovraimpressione faremo comparire il codice IBAN e magari chi vuole può appunto fare un piccolo gesto a favore appunto di Chiara e siete sui social, c'è un hashtag insieme per Chiara, a me pare. E quindi per chi vuole, insomma, può conoscere la storia di Chiara attraverso appunto i social. Vuole lanciare un messaggio? Sempre forza Chiara, questo è il messaggio di Chiara. Noi, il mio augurio è che Chiara un giorno possa essere qui al mio posto e raccontarcela, magari, non lo so, non dico l'anno, per l'evento donna, venire proprio lei a raccontare questa storia e a dire che l'ha superata e dire che la vita è bella, è sempre un d'uno, è sempre un d'uno. Chiara c'è, Chiara c'è. E questo è quello che dà forza a tutti, e noi lo aspettiamo. E noi lo aspettiamo, tutti quanti. Grazie Carmela per aver condiviso questo momento e ovviamente offriamo questi spazi proprio per voi, se volete, quando volete, qui trovate la porta aperta per raccontare anche questi messaggi che per quanto sicuramente dolorosi sono anche messaggi di speranza. Grazie. 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 Grazie.